Mercati finanziari col segno negativo dopo la rielezione di Barack Obama come presidente degli Stati Uniti d'America. Le borse europee risultano un po' timide a causa di una vittoria di Obama non perfetta. In particolare l'Europa attende le reazioni di Wall Street. Secondo molti osservatori tedeschi, il legamento tra la vittoria di Barack Obama alla Casa Bianca e la reazione negativa delle borse. Non c'è dubbio, l'America deve affrontare problemi molto grandi come il tetto al debito pubblico per evitare nuove tasse e taglia alle spese, il famoso fiscal cliff. Ma l'elemento che ha pesato maggiormente sulle borse sono stati i dati negativi della produzione industriale tedesca. La vera notizia è questa. La crisi tocca anche la Germania, quindi l'eurozona nel suo insieme diventa un'area di instabilità. La seconda notizia sono le previsioni negative della Commissione europea sull'Italia. In sostanza la lenta riduzione del debito insieme alla debole crescita economica rendono necessarie altre riforme strutturali. La Commissione europea arriva a prevedere che le misure prese fin qui possono garantire il pareggio di bilancio nel 2013 ma non nel 2014.